Buongiorno, Archidio Davide Morosolo, Archidio della Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre il gruppo Facebook Archidio della Medicina per l'Anima che siamo più di 30.000 iscritti. Iscrivetevi. Allora, questo è il nuovo libro, questa è l'edizione precedente. Vedete, la copertina, la foto è la stessa, cambia il colore della copertina. Le differenze di... Il formato è lo stesso. Vedete questo qui. Ci sono circa 200 pagine in più. È un libro sulle orchidee in generale. Come vi ho spiegato ieri, c'è una parte iniziale con le emozioni che ci danno le orchidee. La seconda parte che è il palenopsis e la coltivazione in casa. La terza parte che è l'orchidee dall'A alla Z, cioè la descrizione della maggior parte delle orchidee dei generi più comuni, ma anche specie rare. E l'ultima parte, invece, gli esperti, i consigli degli esperti. Perché abbiamo coinvolto appunto un gruppo di esperti. Voglio coinvolgere molto di più. Ho coinvolto anche tre colleghi. Voglio coinvolgere tutti. Ma qui siamo arrivati a 562 pagine. Se andavamo avanti a convincere tutti, ci aveva la carriola a portare il libro. Perché arriviamo a qualche migliaio di pagine. Perché gli appassionati, gli esperti, ci sono tantissimi. I colleghi non sono poi molti, saremmo una decina, ma con tre siamo arrivati così. Se ne mettevo una decina, diventava magari un prossimo libro. Allora, nella descrizione sotto vi metto la prefazione che ha fatto Franco Pupoli del libro. Ed è una prefazione bellissima. Cioè, proprio veramente, lusighiera. Non merito tanto. Comunque è bellissima, veramente bella. Ve la metto sotto perché è proprio bella. Allora, gli esperti. Gian Antonio Torelli, il dottor è un medico di Borgo Vassugana. Fomosissimo tra gli appassionati dell'orchidea. Perché è un sito bellissimo, orchid.it. Dove c'è tanti suoi articoli bellissimi. E lui parla dei cimbidium. Fa una bella presentazione dei cimbidium. Come si tengono, la coltivazione e tutto quanto. Poi Dario Golini. Dario Golini è un altro medico che è di Firenze. E' uno veramente bravissimo. Perché lui ha vinto una carrettata di premi in tutte le mostre. Ha delle piante bellissime che appunto vengono sempre un sacco di premi. Claudio Severini di Torino. Altro storico appassionato di orchidee. Che ha una grande collezione di orchidee. E lui parla delle disa. Delle orchidee bellissime dell'Africa. Soprattutto la disa uniflora del Sud Africa. E' una delle orchidee più belle in assoluto. Alejandro Capriles. Alejandro Capriles viene dalla California. Adesso vive a Pistoia. Ed è un onore avere un articolo di Alejandro Capriles. Perché Alejandro Capriles è stato per dieci anni il direttore di Orchid Digest. Poi invita la rivista, la più bella rivista al mondo sulle orchidee. Una rivista americana che fanno in California. Lui ci parla di acacia di orchidee nella giuglia di Venezuela. Poi abbiamo Martino Cesare. Martino Cesare ha fatto un bellissimo articolo sulle Dracula. Le Dracula che sono le orchidee scimmia. Che quando le vedono tutti le vogliono. Però sono difficilissime da coltivare. Sono veramente piante che le nostre latitudini. Cioè a 25 gradi cominciano a avere problemi. A 30 gradi schiattano. Sono piante proprio di montagna. Marco Tonarelli. Marco Tonarelli è un appassionato di orchidee. Che in circa 20 anni lui si è dedicato soprattutto il Dendrobium. Ed ha una collezione di circa 450 specie diverse di Dendrobium. In totale il Dendrobium si è circa 1500 specie. Lui è riuscito a collezionarne un terzo. E in questo, nell'ambito del Dendrobium, è diventato un'autorità. Sì, è un bellissimo suo articolo sui Dendrobium. Daniel Klein. Daniel Klein è probabilmente il più grande esperto che conosco io di orchidee in Italia. E lui ci parla di un argomento molto scoproso. Che sono i virus. Soprattutto di questi tempi. E' un argomento che veramente ci fa incrociare le dita. Comunque è un articolo molto interessante perché anche le orchidee possono prendere delle virosi. E qui avrete qualche idea. Poi ci sono i tre colleghi. Giulio Farinelli del Sugareto di Roccastrada. Giulio Celandroni di San Giuliano Terme Pisa. E Gioele Porrini di Varese. Poi c'è Claudio De Santis. Claudio De Santis ha fatto un bel articolo su... L'articolo si chiama... Nel mondo dell'orchidee come Alice nel Paese delle Meraviglie. Federico Viganò, l'ha già fatto che l'anno scorso, è un giovane illuminotecnico appassionato di orchidee. E ha fatto un articolo sull'illuminazione artificiale. Lui questo lavoro lo fa di professione. E a casa sua ha adottato un impianto di illuminazione appunto sperimentale per le orchidee. Poi c'è Giorgio Buccelli di Napoli. Giorgio Buccelli è un grande collezionista di Napoli, ma ha fatto un bellissimo articolo che mi è piaciuto tantissimo. L'abbiamo messo nel libro che si chiama Il cuore sente, la mente ragiona. Chi ha ragione? Il cuore o la mente? È un articolo bellissimo che fa ragionare perché noi siamo portati a reagire, cioè a delle emozioni. Le orchidee sono emozioni, però non dobbiamo solo lasciarci prendere dal cuore, dobbiamo pensare anche alla mente, bisogna anche ragionare le cose. Poi c'è due che sono... Uno è Adelindo Giuliani di Roma, che è uno scrittore fantastico. E l'altro è Giorgio Facchin di Portogruaro. Tutte e due hanno fatto un articolo sulla loro esperienza nella Serra delle Orchidee. Cioè che quando si arriva a un certo punto con i grandi appassionati, poi si costruiscono la Serra. E allora sono molto interessanti perché se un giorno o domani doveste costruire la Serra lì, trovate tanti spunti, tante idee, tanti sbagli che sono stati fatti. Ok, poi se ce n'è anche qualcun altro che mi sono dimenticato, comunque... Questi sono, alla fine del libro c'è questa parte qua che si chiama i consigli degli esperti, dove sono aggruppati tutti questi esperti qui. Il resto, vabbè, è un libro da leggere come l'altro, stampato con il sistema print on demand. C'è praticamente un ordine al libro, gli stampano un libro e lo mandano. Quello fa Amazon, questo lavoro qua. Perché oggi con la stampa digitale è possibile fare questo. Ok, a domani. Mi metto sotto la preparazione di Franco Publi, leggetelo perché è veramente bellissima.